La sanità pubblica ed in particolare la novità legata alle case della salute. Al centro del dibattito organizzato a Carosino dal circolo del Partito Democratico, il segretario Massimo Causo ha fatto gli onori di casa. Criticità e novità sono state illustrate ai cittadini con gli interventi di Massimo Serio, presidente provinciale del PD, e Mino Boraccino, consigliere per l'area di Taranto, del governatore Michele Emiliano. Abbiamo parlato anche delle novità introdotte dall'ex ministro Speranza della Sanità Territoriale, il potenziamento della sanità territoriale, per evitare di decongestionare il pronto soccorso con ricoveri inappropriati e quindi con l'avvio del progetto delle case della salute. Qui in provincia di Taranto, la AS di Taranto, ha pronti già 17 progetti, 17 case della salute, che si realizzeranno nella stragrande maggioranza dei comuni della provincia e che già all'inizio dell'anno vedranno l'avvio dei cantieri e presumibilmente entro il 2025 l'entrata in funzione di queste case della salute. Parliamo di fondi già assegnati, parliamo di risorse per circa 45 milioni di euro che la AS di Taranto gestirà in questi 17 comuni, che è una grande rivoluzione, una cosa molto importante. Noi crediamo che sia uno dei problemi più importanti nella vita del nostro paese. La salute è un diritto di tutti, è un diritto di tutti, di chi ha i soldi e di chi non li ha alla fine e purtroppo questo sistema sanitario si avvia in questo momento a privilegiare sempre le classi più agiate e la gente che non ha soldi alla fine non sa più come fare per andare avanti.